Pensavamo che le riflessioni odierne si potessero concentrare esclusivamente su Juventus-Atalanta, appuntamento oggi alle 18 allo Stadium, ma quanto emerso ieri va sicuramente analizzato, approfondito e non strumentalizzato. Allora, la Juventus è finita sotto indagine per le plusvalenze e i movimenti di mercato degli ultimi tre anni. La Procura di Torino ha infatti mandato la Guardia di Finanza nella sede centrale del club, la continassa in alcuni uffici della Juventus a Milano, per acquisire documenti riguardanti proprio il periodo in esame. Finiti tra gli indagati, tra gli altri, il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l'ex DG Oral Tottenham Fabio Paratici, indagati per falsi in bilancio e false fatturazioni. Pertanto, come prevede la legge sulla responsabilità dei club, le stesse accuse, le medesime accuse, sono state mosse, anche alla società. Partiamo col dire che, come spiegato tra l'altro anche dal Corriere di Torino, dalle intercettazioni si sarebbe avuta espressa conferma in merito alla gestione malsana delle plusvalenze, voce di ricavo caratteristica della gestione sportiva talvolta utilizzata quale autentico strumento salva bilanci, cioè in modo distorto. Chi sostiene questo lo sostengono i pubblici ministeri della Procura di Torino nel decreto di perquisizione che ieri sera, ieri a tarda sera, ha fatto emergere l'inchiesta sui bilanci della Juventus. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo dopo che la Consob aveva avviato una verifica ispettiva nello scorso luglio. E dopo, soprattutto anche, la relazione della Covisoc che aveva portato la Procura federale, come ben sappiamo, ad aprire recentemente un fascicolo. Secondo la Covisoc, quindi, era necessario approfondire alcuni casi legati a delle operazioni e dei trasferimenti con, in primo piano, lo scambio effettuato col Barcellona con protagonisti Milalem, Pjanic e D'Artur. E quindi, portando adesso anche la Juventus a essere indagata penalmente, si tratterebbe di movimenti potenzialmente di circa 50 milioni di euro. Questo è sostanzialmente il riassunto del blitz della Guardia di Finanza presso la sede della Juventus. Tra l'altro, c'è da dire che in questo momento mi sembra che si stia facendo abbastanza confusione per quanto riguarda questa indagine, tra l'altro, denominata Prisma. Un'indagine che ha avuto avvio nel maggio del 2021 ed è stata affidata a un pool di magistrati del gruppo dell'economia, composto dai sostituti procuratori Ciro Santoriello, Mario Bendoni, dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio, i quali si sono anche avvalsi di attività tecniche di intercettazioni di comunicazioni. Quindi ci sarebbero anche delle intercettazioni. Ve lo dico subito, ve lo dico subito, caso plus valenze o caos plus valenze, non risponderò in questo video all'interrogativo che cosa rischia la Juventus. Innanzitutto perché non abbiamo ancora le carte, noi le abbiamo lette e mi sembra che questo titolo sia un pochettino forzato. Chiaro, voi da casa volete capire nel concreto, perché ti fate la vostra squadra, del cuore, non mi interessano le parole, vi interessa poi comprendere tangibilmente che cosa stia accadendo. Io vi ho fatto il quadro. Ovviamente bisogna considerare che ogni mondo, ogni storia ha un suo percorso, perché ad esempio nel 2018 la Corte d'Appello federale condannò il Chievo-Verona a tre punti di penalizzazione per reiterata violazione e delusione delle norme di prudenza e correttezza contabile. Tra l'altro col procuratore federale che in quel preciso caso chiedeva 15 punti di penalizzazione. Ma il caso del Chievo-Verona non può essere in questo momento paragonato a quello della Juventus, perché sono mondi differenti e vi ribadisco, non abbiamo le carte e non dobbiamo assolutamente pensare che un'indagine diventi automaticamente sinonimo di colpevolezza. Questo è un uso e costume tipicamente italiano, dove vieni magari indagato, il tuo nome, il tuo faccione finisce in prima pagina sui giornali, sulle copertine, sui vari organi di informazione e automaticamente diventi colpevole. No, 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 nel senso io credo che poi, come sempre, si debba fare luce su tutte le vicende, si debba fare chiarezza e si debbano comprendere tutti gli aspetti, altrimenti parliamo davvero ragazzi di aria fritta. Ci sono tanti precedenti, tra l'altro perdonerete la parte silistica di questo video, ma ho tanti appunti e non voglio sparare sciocchezze, altrimenti incominciamo a dire parole ad minchiam e voi da casa non capite niente. Ci sono tanti precedenti anche su questo tema Plus Valencia, vi ho citato quello del Chievo Verona, però in passato era anche accaduto, per esempio, che vennero indagate Milano e Inter e nel 2008 vennero assolte perché, leggo testuale, in quel periodo il fatto non costituiva reato dal momento che non esiste una definizione scientifica del valore di un giocatore nell'ambito del calcio mercato. Ve lo rileggo. Dal momento che non esiste una definizione scientifica del valore di un giocatore nell'ambito del calcio mercato e da questo punto di vista bisogna anche soffermarsi perché è vero, è chiaro che, ribadiamo, qua non c'entra solamente la Juventus perché sono state generate delle Plus Valencia bilancio scandalose anche da parte di tante altre società, poi come ben sappiamo la Juventus in prima pagina fa sempre notizia perché è un club sovraesposto, il più importante italiano, il più importante al mondo e quindi c'è sempre anche frenesia nell'analizzare le dinamiche quotidiane di casa Juve, ma ci sono tante altre società che nel tempo si sono sorrette generando effetti positivi a bilancio pressoché scandalosi. Però effettivamente la valutazione di uno scambio, di una Plus Valenza resta abbastanza soggettiva perché per me Caio può valere 15 come può valere 30 e chi può dirmi che Caio non vale 15 invece vale 30, è chiaro che siamo anche recintati del buon gusto perché c'è da dire che un giovane che magari va in scadenza di contratto, se viene scambiato per 7-8 milioni fa un pochettino storce nel naso e quello ci sta. Io credo sempre che poi in questi casi, quindi se parliamo della materia Plus Valenze si debba sempre essere, mettiamola così, non bisogna abusarne, non bisogna abusarne A per sostenere proprio i bilanci perché se tu non ti puoi permettere un determinato calciatore poi alla fine se devi generare Plus Valenze su Plus Valenze su Plus Valenze vai a non programmare, vai anche a sacrificare i giocatori per fare in modo che comunque tornino ai conti e quella non è programmazione sportiva bensì è puramente stabilità finanziaria, tant'è che nell'ultima sessione di mercato la Juventus ha deciso diametralmente di cambiare filosofia, non sono state generate Plus Valenze a bilancio e quindi la Juventus ha cambiato modus operandi e ha deciso di tornare a programmare, poi ciò magari comporterà anche annate complicatissime per parecchio tempo, non lo sappiamo, ma quello è il metodo giusto, ovvero non sacrificare i giocatori perché ti servono per sorreggere un bilancio, bensì cercare di andare a lavorare sulle caratteristiche tecniche di ciò che ti serve effettivamente e di ciò che non devi sacrificare unicamente in funzione del vil denaro. Quindi questo è un tema molto scottante, non solo per la Juventus perché è indagata, ma in generale per tutte le società che ne hanno anche abusato nel tempo, facendo delle manovre un po' così. Allora ribadisco, quando si parla di Juventus si è sempre sovraesposti ed è normale che oggi al bar, in palestra, ovunque voi andiate, per strada, passi il messaggio che la Juventus sia come sempre la più malvagia di tutte e che gli altri siano i buoni, no? Non è così, non è così. È chiaro che adesso monitoreremo cosa accadrà in questa inchiesta, se emergeranno anche delle intercettazioni perché sicuramente è tipico, no? Che escano sui giornali in maniera anche tra virgolette misteriosa determinati aspetti che poi vanno inevitabilmente anche a indirizzare i casi perché sono argomenti privati, argomenti abbastanza solidi e che quindi riescono anche alle volte a mistificare la realtà dei fatti. Ma questo è un altro caso, questa è un'altra storia, rimaniamo fossilizzati, focalizzati soprattutto su quanto sia accadendo in questo momento in casa bianconera, lo ribadisco. essere indagato non significa essere colpevole, questo credo che sia un discorso anche abbastanza ovvio, è come praticamente finisci su un giornale e automaticamente sei condannato, questo non va bene, non va bene assolutamente. Grazie. Grazie.